Francesco Serpa ha approvato la modifica del regolamento e confermate in sostanza le tariffe della Tari per i Civitavecchiesi? La modifica del regolamento più che altro è una modifica tecnica, era un adeguamento del nostro regolamento comunale alle modifiche attuate dal regolamento Arera quindi più che altro un adeguamento a quello che la normativa Arera ha imposto. Per quanto riguarda invece le tariffe sostanzialmente rimangono invariate sia quella della Tari che quella della dizionale IRPEF sostanzialmente invariate rispetto agli ultimi tre anni, anzi per la Tari forse una piccola, come dicevo prima anche in Consiglio Comunale sbandierarla come un risultato sarebbe da ipocrita, quindi la riduzione è veramente minima. Però come dicevo rispetto alle tariffe per esempio del 2019 sia per quanto riguarda le tariffe non domestiche che quelle domestiche c'è stata una piccola riduzione nell'ordine di quelle non domestiche circa del 5% e di quelle domestiche tra il 6% e il 7% quindi un minimo di risultato che speriamo di riuscire a migliorare nei prossimi anni. Assessore non sono mancate come sempre le critiche da parte dell'opposizione e in questo caso lei le ha rispedite al mittente dicendo che la motivazione della conferma delle tariffe che comunque continuano ad essere alte non è legata alla gestione di Civitavecchia e servizi pubblici per quanto riguarda il servizio dei rifiuti. È riduttivo parlare di una tariffa alta che obiettivamente c'è a Civitavecchia, è inutile nasconderlo e l'ho già detto però ridurre il tutto a delle presunte inefficienze e a un mal servizio di CSP mi sembra anche offensivo sia nei confronti dell'erigenza che nei confronti dei lavoratori. Che poi si possa fare sempre meglio, io sono anche assessore alle partecipate quindi è il mio impegno a migliorare sempre io per primo però come dicevo la tariffa alta è dovuta ad altri fattori di cui il Consiglio si è parlato. È chiaro che un porta e porta così capillare come c'è Civitavecchia e soprattutto con un territorio ampio che ha delle zone periferiche molto vaste naturalmente porta ad avere un costo alto, questo è innegabile. Quindi confrontare il tutto con realtà molto più piccole in cui viene fatto un porta a porta capillare però con dei territori ristretti è come se noi a Civitavecchia facessimo il porta a porta solo nel centro storico o comunque nella parte più ristretta di Civitavecchia. È chiaro che i confronti andrebbero fatte con delle realtà analoghe. Abbiamo portato in giunta lunedì questa delibera della Smart City in cui tra le altre cose sono previsti anche questi centri di raccolta intelligenti con cui puntiamo a razionalizzare, migliorare e speriamo anche a diminuire le tariffe etari nel futuro.